Torniamo al teatro, al teatro italiano, vi faccio vedere queste belle immagini di Notte Gitana. Allora ve le faccio vedere tra un po', ecco qui, intanto le vediamo. Canti e danze al teatro Leo Amici, come leggiamo, uno spettacolo che potete trovare ogni mercoledì e sabato al teatro Leo Amici con chitarre andaluse, musica dal vivo, canti e danze coinvolgenti con 40 artisti in scena. Queste appunto alcune delle immagini dello spettacolo che ci sarà per tutta l'estate.